In sostanza, come vi dicevo, due protocolli, uno riferito al paziente parzialmente dentulo e un altro riferito al totalmente dentulo. Per quanto riguarda il paziente parzialmente dentulo, la scansione con BIM può essere o in studio o fuori studio. Nel caso in cui possa esserci una con BIM in studio, ecco che noi abbiamo la possibilità di utilizzare un dispositivo radiopaco che viene posto su una chiave occlusale termoplastica che viene confezionata direttamente nel momento in cui il paziente fa la sua con BIM e questo dispositivo radiopaco ha all'interno del materiale in titanio radiopaco che verrà quindi impressionato dalle radiazioni ionizzanti della con BIM. In modo tale che poi, quando verrà poi caricato i file DICOM, il software registrerà automaticamente l'anatomia del paziente sui dati della con BIM. Questo è l'elemento nuovo che si aggiunge al protocollo che già alcuni conoscono che è il protocollo cosiddetto trace in place, un protocollo che rimane operativo. È un protocollo che permette quindi di effettuare questa registrazione, questa registrazione tra l'anatomia del paziente e i dati della TAC attraverso un tastatore chiamato Tracer che permette appunto di scegliere un tripode dentale, quindi almeno tre elementi dentali, poterli disegnare con questo tastatore e quindi arrivare poi a far effettuare questa registrazione dell'anatomia del paziente sui dati della TAC. Questi sono i due protocolli che uno già conosciuto, il trace in place, è quello che appunto sto indicando in questo momento. Uno invece nuovo, che è appunto questo dispositivo che si chiama Navitray che si aggiunge appunto come protocollo per la registrazione. La fase poi di progettazione è rimasta sempre la stessa, la fase chirurgica, come ricordate, la calibrazione dell'asse del contrangolo e della lunghezza della fresa, con la prova di accuratezza prima di iniziare l'osteodomia per verificare che ci sia una congruenza tra quello che io faccio e quello che io vedo e quindi l'atto chirurgico dinamico. Come sapete abbiamo necessità di dare delle scacchiere nel caso del paziente e come sapete anche nel caso del manipolo operatorio. Per quanto riguarda la parte invece di totalmente dentulo, il protocollo è questo, è un protocollo che non è cambiato, che prevede una preparazione prima della fase di scansione con la combim di un mock-up con dei reperi radiopachi e con delle mini viti di ostiosintesi che vengono posizionate sull'arcata del paziente. Quando il paziente fa la tacca, quindi la fa sia con il mock-up sia con le mini viti posizionate sul macellare e dentulo e io vado a caricare sul computer i dati DAICOM, ecco quello che io vedo. Vedrò le mini viti, vedete qua ne vediamo quattro, radiopache, quindi in titanio e vedrò questi bottoncini radiopachi che sono quelli presenti nel mock-up indossato dal paziente in fase di tacca. Questi materiali ci servono perché questi bottoncini vengono utilizzati per registrare l'STL del setup diagnostico e quindi può poi effettuare, come vedete, una pianificazione tenendo conto di quella che è il volume e la dimensione verticale dei denti, volume e dimensione verticale che è stata costruita in articolatore perché questa wax-up è stata fornita in formato STL dal laboratorio e quindi abbiamo le informazioni non solo appunto della protesi ma anche dello spessore della mucosa. Quindi su queste informazioni viene fatta la progettazione e poi ancora una volta c'è la fase di registrazione che viene fatta sulle mini viti che sono queste mini viti che noi vediamo in DAICOM utilizzando il tastatore e dopo la fase di registrazione abbiamo detto la fase di chirurgia di osteotomia direttamente effettuata in modalità guidata dinamica. Questi erano i due protocolli che volevo appunto introdurre preliminarmente dando anche la possibilità a qualche altro collega di accedere a questo webinar per passare quindi la parola al dottor Comuzzi che appunto condividerà con voi alcune esperienze cliniche a questo riguardo. Per quanto riguarda la condivisione c'è praticamente in questo caso io faccio lo stop al mio sharing e in alto c'è una freccia dentro un quadrato Luca, quindi tu dovesse essere in grado cliccando con quella freccia di condividere il tuo schermo e lo stiamo vedendo in questo momento quindi tu sei in grado in questo momento di farci vedere il tuo schermo e quindi di iniziare la tua presentazione. Si vede? Si, si vede. Si vede perfettamente. Ok, allora, grazie per la parola Luca e saluto anche George dopo ascolteremo anche la sua esperienza e questa sera volevo un po' parlarvi della mia esperienza con il nuovo Navident e soprattutto con i nuovi protocolli di registrazione come ha parlato Luca appunto che sono senz'altro molto più veloci per applicare subito la chirurgia. Adesso vi farò vedere e vi farò vedere un po' alcune cose con anche dei casi che ho trattato. Il lavoro, io per chi non mi conosce sono un collega di Conegliano provincia di Treviso e sono un odontoiatra e mi occupo prevalentemente di implantologia e di parodontologia per cui lavoro in questo studio che sembra situato negli alpeggi alpini invece è situato in pianura però ha un bel prato con anche una bella vista sui caprioli che spesso ci, diciamo, allietano la nostra vista. Nello studio abbiamo tutti i protocolli mantenuti anche dopo il Covid di protezioni di lavorative e questo è il personale che mi aiuta tutti i giorni. Ci tengo a nominarle perché senza di loro non sarebbe possibile lavorare come piace a me. Allora, la navigazione quindi il mio discorso sarà un po' ibrido per chi è molto esperto ascolterà appunto delle cose un po' ripetitive e per chi è meno esperto ascolterà invece delle cose un po' più introduttive che senz'altro sono utili. Comunque la navigazione è un sistema di trasferimento dell'anatomia del paziente all'interno del computer ed è un aiuto per la realizzazione di impianti attraverso l'uso del computer e attraverso la guida di un computer. Quindi è una navigazione dinamica dinamica legata alla visualizzazione nell'attac 3D dell'impianto che dobbiamo posizionare. Per cui è come se ci fossero due occhi che guardano il manipolo che noi utilizziamo e la bocca del paziente attraverso un jaw tag che è una farfallina chiamata così attaccata alla mandibola o al mascellare superiore del paziente e qualunque movimento il paziente faccia viene seguito come nel famoso film di Top Gun in cui vengono seguiti gli obiettivi nonostante si possano muovere. Quindi non è che se il paziente si muova che questa è magari una classica domanda se il paziente si muove diciamo si scombina tutta la taratura ma rimane comunque tutto tarato proprio perché viene seguito attraverso l'utilizzo di queste farfalline. Il tutto si realizza attraverso un obiettivo e il computer ci aiuta la navigazione ci aiuta a seguire l'obiettivo per posizionare l'impianto dove noi abbiamo pianificato. Ovviamente questo è un esempio in cui in un totale inferiore che di solito io svolgo in conometria praticamente il manipolo segue questo target e più precisi si è nel seguirlo più precisa è rispettata la pianificazione. La posizione di lavoro è guardando il monitor e qui sfrutto il nostro amico Simone Patianna che mi ha suggerito questo bel video di Ronaldinho che è in grado di calciare nonostante guardi dall'altra parte quindi è un po' una visione al buio. Noi guardiamo sul monitor in realtà non guardiamo la bocca del paziente anche se adesso ci sono dei sistemi di visualizzazione moderni che consentono di vedere attraverso gli occhiali con la realtà aumentata ciò che vediamo ma in realtà come Ronaldinho fa noi in realtà guardiamo il monitor del computer. Il Navident Evo ha le dimensioni ingombri più o meno di quello vecchio diciamo ed è molto compatibile all'interno dei nostri studi. Ci sono dei tools nuovi che si compongono di uno Joe Tracker T qui lo vedete praticamente che è un po' è più rigido e diciamo si si utilizza insieme al al Navitray che adesso di cui ne parleremo e poi qui c'è il Naviplast che è una specie di sostanza che scaldandola riesce ad essere malleabile e funzionare quasi da un materiale di impronta come vedete in queste immagini in cui praticamente viene inserita all'interno di questo piccolo porta impronta e poi viene subisce l'indurimento nell'arco di un minuto due e il paziente fa l'attack ecco questo è un passaggio importante perché attraverso questo Navitray il Navident è in grado di riconoscere da solo immediatamente il macellare superiore o inferiore e lo accoppia direttamente con l'attack del paziente senza fare il protocollo del trace in place di cui ha parlato Luca Casalena poco fa quindi taglia un passaggio e si arriva alla chirurgia immediatamente però bisogna ricordarsi di questo passaggio cioè di eseguire l'attack attraverso il Navitray adesso vediamo un attimino dopodiché ci sono dei sistemi diciamo nuovi che si avvalgono appunto di strumenti un pochino più piccoli meno ingombranti sul manipolo rispetto a quello vecchio e anche dei caschetti o head tracker che sono nuovi sono un pochino più piccoli meno ingombranti e di cui c'era qualche criticità che dopo vi farò vedere quindi questo passaggio di cui ha parlato Luca io lo salto a pie pari per farvi vedere un attimino quella che era la registrazione qui ho parecchi video ma per farvi vedere normalmente il protocollo trace in place era questo cioè dovevamo focalizzare alcuni punti nella bocca e bisognava registrare 100 punti nei vari posti diciamo dell'arcata in maniera tale da dare una tridimensione di volume al nostro computer e poter essere preciso nella misurazione ovviamente poi va verificata l'accuratezza della registrazione e l'accuratezza si registra si monitorizza attraverso il tracer quindi quel dispositivo che avete visto prima e si tocca varie zone della bocca denti ovviamente dei posti fissi e che evidenziano il grado di precisione di registrazione che abbiamo fatto per cui più vicino allo zero siamo più precisa è la registrazione al decimo di millimetro quindi c'è questa fase dell'accurate check che va sempre fatta anche durante il lavoro cioè quando si inseriscono i vari i vari strumenti all'interno del manipolo bisogna monitorare che la precisione sia sempre rispettata nel caso delle denture totale ne ha già parlato Luca si avvale delle mini viti e qui c'è un video che lo fa vedere molto bene perché la registrazione non si può fare attraverso il Navitray cioè quel dispositivo che avete visto che riguarda la dentatura quando siamo senza dentatura non possiamo ovviamente bloccarlo per cui si avvale sempre del protocollo delle mini viti e qui vedete quanto veloce è perché il sistema registra le mini viti qui vedete la foto delle mini viti posizionate e la diciamo quando vengono toccate questa per esempio era la seconda mini vite in corso del canino del 13 che qui vedete il sistema non l'aveva riconosciuta immediatamente come mini vite per cui ho fatto il protocollo dei 100 punti sulla mini vite alcune volte succede che non viene registrata ma non ha importanza perché comunque la terza vedete è stata registrata immediatamente la quarta anche registra esattamente il tipo di mini vite la posizione e il modello di mini vite per cui il trace in place negli dentuli totali si fa nell'arco di tre minuti tre minuti quattro minuti questo è in tempo reale per cui non ho tagliato il video siamo all'interno di un minuto circa ed è praticamente un protocollo molto molto veloce ecco vedete e poi si passa direttamente alla seconda fase che è la prova di accuratezza perché dopo la registrazione va sempre monitorata l'accuratezza e qui vedete io tocco un dente o l'altra qualche superficie anche le mini vite stesse e lì potete vedete qui sta toccando una mini vite e vedete che la precisione è al decimo di millimetro e ovviamente c'è una piccola latenza tra il segnale e il momento in cui si tocca bisogna un attimo attendere però questa è l'accuracy check che è importantissimo il problema vedete dei vecchi sistemi diciamo vecchi ma sono sempre utilizzati è che anch'io utilizzavo il show tracker c che era questo qui che vedete sulla destra che avevo modificato perché questo show tracker c andava ad essere incollato alla superficie dei denti per poter agire come farfalline ed essere riconosciuto dal computer però vuoi il composito vuoi la fissità qualche volta mi si staccava e avevo qualche problema ecco perché mi sono inventato un sistema che potesse ovviare a questo che è unire il show tracker c all'uncino della diga per avere fissità del show tracker ovviamente era un po' meglio però c'è qualche criticità ugualmente perché dipende dalla forma del dente però questa fase di stabilizzazione del show tracker o comunque della farfallina chiamiamola così è una fase importante perché se si muove abbiamo un problema poi di dover riregistrare tutta la nostra anatomia del paziente e in più c'erano altri problemi che qui volevo farvi vedere è che il caschetto aveva delle debolezze un po' strutturali e alcune volte mi si alcune volte mi si è rotto per cui mi sono inventato anche di fare delle piccole placche con delle viti e me lo sono anche risistemato da solo ed è molto più robusto adesso però direi che questo problema con il nuovo caschetto è stato risolto il show tracker che vedete qui è un ibrido tra il show tracker c e il show tracker t il c era quello di prima che vi ho fatto vedere che si unisce col composito ai denti il show tracker u invece è il show tracker che è un mini porta impronta dentro il quale voi mettete la pasta da impronta che vi piace di più e che sia fissa prevalentemente un putti e che viene stabilizzato nell'arcata dove non dovete trattare gli impianti ovviamente e che agisce come diciamo stabilizzatore della farfallina quindi questo è già un passo avanti come prima soluzione qui vedete un caso di un posizionamento di un impianto pterigoideo con il show tracker u proprio perché diciamo l'impianto è posizionato dalla parte controlaterale e il limite di questo dispositivo è che deve esserci adeguati altri denti da poter fare il protocollo trace in place vi ricordo che dovete monitorare i 100 punti attorno ai denti quindi questo show tracker u va benissimo ma devono essere liberi adeguato numero di denti per fare il protocollo trace in place quindi questo è un po' il limite di questo show tracker u però consente vedete di fare un ottimo lavoro questo è un impianto pterigoideo posizionato con questo strumento la seconda soluzione nuova che a mio avviso è molto interessante adesso vedrete perché è questo utilizzo di questo navitray che è questo piccolo porta impronta però già codificato dall'azienda e già diciamo riconoscibile dal sistema dentro il quale deve essere posizionato questo naviplast che è una specie di materiale da impronta però molto molto diciamo rigido quando si indurisce e scaldato opportunamente con un fornelletto che viene fornito dall'azienda viene messo all'interno e poi viene indossato dal paziente fatto indurire e fatta l'attack in questo modo non abbiamo più bisogno di fare la registrazione attraverso il trace in place perché il sistema una volta che noi il giorno della chirurgia lo rimettiamo in bocca è in grado di riconoscere immediatamente l'anatomia del paziente e in più viene fissato adesso vedrete il proseguo viene fissato il Joe Tracker T quindi viene tolta la plastichetta che c'è qui sotto lasciata il materiale da impronta insieme al navitray e fissato il Joe Tracker T in questo modo si passa direttamente alla chirurgia quindi i due protocolli di cui ha parlato Luca sono questi c'è quello della instant registration così viene definito in cui la paziente fa l'attack con il navitray e il naviplast cioè quel piccolo diciamo dispositivo invece la registrazione normale si avvale del protocollo trace in place e mi pare che lo abbiamo capito quindi vedete il navitray con il naviplast all'interno poi ovviamente si importa il caso all'interno del sistema si fa la pianificazione con gli impianti e poi nel caso in cui non si utilizzi il navitray si fa il protocollo trace in place si usa il calibro e poi si fa il tracing all'interno della bocca e si usano questi dispositivi questo è il Joe Tracker B usato negli dentoli totali quando non ci sono i denti il Joe Tracker C che vi dicevo era quello fissabile con il composito sui denti che aveva il limite ovviamente che qualche volta se non fissato bene si può staccare ecco perché io avevo fatto la modifica con l'uncino della diga assolutamente artigianale e personale per cui prendetela come così suggerimento e il Joe Tracker U che è questo ibrido che però aveva il vantaggio di essere molto ben saldo e quindi senz'altro interessante del tracing abbiamo già parlato per cui forse e anche della QR ST6 check e questo è il protocollo instant registration quindi ricordatevi il paziente navitray e il naviplast in bocca fatta l'attack dopodiché si toglie questa plastica in cima e e anche diciamo il resto della plastica e sul naviplast viene poi inserito Joe Tracker T per cui vedete questo è il phon che scalda il naviplast che viene inserito all'interno del navitray poi in bocca viene posizionato viene lasciato indurire ci vuole circa un due minuti e dopodiché viene conservato il naviplast del paziente nel momento in cui si fa la chirurgia se viene fatta subito si lascia e si fa la chirurgia immediatamente oppure viene diciamo archiviato il giorno della chirurgia su questo naviplast che voi vedete il giorno della chirurgia lo rimettete nella stessa posizione quindi viene conservato e rimesso e a quel punto lì viene posizionato il jaw tracker T il quale ha lo stesso incastro del diciamo di quel porta impronta del navitray e una volta posizionato siamo già pronti per la chirurgia perché il sistema ha già riconosciuto l'anatomia del paziente e quindi evita tutto il protocollo trace and place scusate se ripeto ogni tanto in più ma credo che ripetita juvent soprattutto per chi è meno familiare con tutti questi termini e poi c'è opzionale anziché il jaw tracker per il mascellare superiore del head tracker cioè di questo dispositivo che fissato al cranio del paziente fissa il mascellare superiore in maniera fissa quindi evita anche l'utilizzo di questo di questa opzione si può conservare e si può anche sostituire cioè il sistema è anche in grado di riconoscere prima il jaw tracker t e una volta riconosciuto il jaw tracker t se montiamo l'head tracker si può addirittura smontare il jaw tracker t perché lui ha già riconosciuto attraverso il protocollo di intelligenza artificiale anche il jaw tracker con estrema precisione se mi avete capito bene se no non è importante lo si vede praticamente c'è la fase della calibrazione delle frese scusate la calibrazione dell'asse del manipolo poi la calibrazione dell'asse delle frese scusate dell'asse delle frese quindi della lunghezza delle frese essenzialmente e qui vedete un caso e dopo di che si può tranquillamente procedere con la chirurgia che avviene in maniera tradizionale la chirurgia stessa questo è un altro impianto pericoideo posizionato con il led tracker in questo caso quindi si va direttamente alla chirurgia e qui vediamo altri casi con questo manipolo decisamente più confortevole e la visualizzazione attraverso lo schermo di ciò che stiamo facendo questo è un altro caso di periore che svolgo in conometria a carico immediato e seguendo bene l'obiettivo a me piace la precisione per cui cerco sempre di avere la massima precisione e soprattutto nell'angolazione è importante rispettarla questo dà una precisione poi diciamo eccelsa per poter proseguire quindi questo questo strumento diciamo è è molto molto utile ed è rapidamente dal passaggio tra l'attacca del paziente e la chirurgia attraverso un protocollo semplificato attraverso questo strumento che è il Navident si possono fare sempre più cose si possono trattare casi di denturia totale o parziale la chirurgia è più mini-invasiva nel caso in cui lo si voglia cioè senza elevare l'embo si può fare o no il carico immediato si può trattare anche casi di atrofia marcata adesso ci sono anche gli impianti zigomatici che possono essere eseguiti si può fare la piezochirurgia per chi piace il piezo e si può anche fare la endodonzia perché attraverso la guida della navigazione si può navigare all'interno dell'endodonto del canale allora personalmente perché il Navident io uso il Navident io uso il Navident essenzialmente perché mi ha reso diciamo la vita molto più semplice quando svolgo casi complessi di denturia totale per poter posizionare degli impianti dove voglio in base alla protesi e soprattutto paralleli per applicare i concetti di biconometria per cui per me la biconometria è una rivoluzione che secondo me prenderà sempre più piede che si compone di un impianto di un moncone di una cappa e di una ricostruzione sopra la cappa che viene incollata con un materiale che può essere variabile la rivoluzione biconometrica non l'ho inventata io l'ha inventata il professor Piatelli e il dottor De Gidi però con il professor Piatelli che è una mente diciamo sempre fervida e attivissima ho svolto parecchi studi e il professor Piatelli è uno dei massimi esponenti dell'implantologia e della bone regeneration e dell'oste integrazione ai massimi livelli e insieme abbiamo anche fatto dell'istologia sulla biconometria con dei bellissimi risultati unici al mondo che abbiamo pubblicato recentissimamente e che evidenziano proprio lo stato di salute che ha questo tipo di connessione nei confronti del tessuto molle e anche che tipo di diciamo disposizione delle fibre collagene all'interno di questa biconometria attraverso questa cappa e si evidenzia proprio lo stato di bassissimo grado di infiammazione dei tessuti con disposizione delle fibre circolari ma anche trasversali non dico che siano come quelle attorno ai denti ma è una disposizione di fibre che non è più solamente longitudinale come viene sempre descritto attorno agli impianti ma è anche una disposizione trasversale di un fitto intreccio di fibre e sono scoperte recentissime che posso portarvi alla luce che avvalorano proprio l'utilizzo della biconometria che comunque comporta una ricrescita ossea verso la parte cristale al di sopra della piattaforma eccetera eccetera per cui non è questa è la sede ovviamente di parlare di queste cose ma comunque la pubblicazione è recentissima sui miei prelievi per cui ci tengo insomma a dirlo che è una cosa importante attraverso il professor Piatelli di queste cose abbiamo parlato dappertutto in giro per il mondo anche a Las Vegas recentemente a novembre per cui è stato un bellissimo successo vi porto all'attenzione questo studio che stiamo pubblicando nei prossimi credo settimane che riguarda proprio la precisione della della navigazione nei confronti di un approccio di protesi biconometrica in cui ho analizzato e qui vado un attimino all'articolo comunque ho analizzato circa 50 casi di dentolia totale superiore e inferiore dove ho analizzato il grado di precisione tra il pianificato e il realizzato in maniera tale da vedere che grado di precisione questa attrezzatura mi dava vedete i casi sono questi sono 36 casi full arch macellari 24 mandibolare adesso sono già oltre questi dati ma questo è quello che avevo fatto alcuni mesi fa per l'articolo e praticamente i risultati sono che comparando il pianificato con il realizzato c'è una differenza di un grado di differenza di disparallelismo diciamo di ogni impianto media una deviazione verticale apicale all'interno di 0,5 mm come una deviazione in 3D apicale di circa 0,5 mm rispetto al pianificato e anche una deviazione rispetto al sito d'entrata di circa 0,5 mm questo sta a significare che effettivamente con questo sistema acquisendo una curva di apprendimento buona si ottiengono veramente dei bei risultati attraverso la biconometria poi si può incollare all'impianto qualsivoglia restauro che può essere in zirconio in disilicato in resina o in composito vado avanti su questo che volevo saltarlo per arrivare un attimino ai protocolli di diciamo di utilizzo perché attraverso cappe che sono provvisorie e definitive si realizza il manufatto provvisorio e poi definitivo vi faccio un piccolo accenno di questo per anche capire i casi che vi farò vedere dopo e attraverso la digitalizzazione dico è una rivoluzione perché attraverso gli scanner intraorali si possono registrare le impronte intracchirurgiche delle cappe degli scambodi quello che volete attraverso la navigazione si può avere un aiuto notevole nel posizionamento degli impianti rispetto al pianificato in maniera molto precisa e e quindi tutto può avere un un grosso impulso verso il digitale anche la completa digitalizzazione questo per esempio è un caso di lentolia bilaterale superiore inferiore di un paziente in cui vi faccio vedere quale è il mio protocollo per questi casi cioè io mi avvalgo della TAC e di una doppia scansione di un doppio STL dico doppio perché per me è una scansione intraorale della mucosa che qui vedete in blu della mucosa del paziente che mi serve per decidere la lunghezza essenzialmente dell'abatment e l'altra scansione l'altro STL che qui vedete new restoration sta a significare che è l'STL della protesi che mi serve per la pianificazione implantare della posizione dell'impianto dell'angolazione del diciamo dell'interno dell'osso ma anche rispetto alla protesi per cui quando ho queste tre informazioni quindi la TAC l'STL della gengiva e l'STL della ricostruzione protesica io pianifico gli impianti vedete che si possono raggiungere grade di precisione con otto impianti nel mascellare superiore con pterigoidei addirittura paralleli e dei toronto conometrici che per me è diciamo la cosa a cui punto ogni volta nel mascellare inferiore il protocollo delle mini viti lo avete visto e poi ci sono gli STL qui ne vedete addirittura tre ma perché tre perché in questo caso avevo anche la vecchia protesi del paziente per cui ho scansionato pure quella e l'ho inserita all'interno del sistema di navigazione in maniera tale da avere l'altezza della gengiva che mi serve per la pianificazione dell'altezza dell'abatment la vecchio restauro e il nuovo ovviamente il vecchio solamente come indicazione anche per vedere che correzioni sono state fatte sulla protesi e ovviamente mi serve il restauro nuovo per la pianificazione che vedete con la freccetta qui in blu che è l'STL in blu per cui è tutto molto semplice sembra complicato ma in realtà è molto semplice qui vedete per esempio la pianificazione inferiore con sei impianti anche questi sono parallele all'interno del progetto protesico semplicemente io l'ho applicato all'interno del sistema di navigazione e questo sono le due protesi superiore inferiore in biconometria con la navigazione e l'aspetto radiografico che sembra un diciamo un pavone però è un aspetto di deformazione ovviamente della panoramica in realtà tutti questi impianti che voi avete visto sono paralleli in biconometria con protesi rinforzate in fibra di vetro e questo è il paziente con le due protesi in bocca e il caso finito con ringraziamenti a Luca De Pasquale come odonto tecnico per la realizzazione di questi manufatti per cui qui mi vedete al lavoro quando utilizzavo il monitor scusate utilizzando il monitor con i vecchi dispositivi e adesso con i nuovi dispositivi possiamo fare come vi dicevo anche meglio la navigazione è una società di navigazione della quale faccio parte e di cui sono un trainer insieme ad altri trainer detto questo vi faccio vedere dei casi clinici se mi concedete ancora un attimino di tempo dei casi clinici con questo protocollo della instant registration qui vedete un caso di un paziente ovviamente di identulia parziale vi ricordo che il navi 3i deve essere posizionato in dentatura per cui se il paziente non ha dentatura non è possibile metterlo qui avevo la possibilità di utilizzare la dentatura di destra e gli impianti andavano a sinistra quindi praticamente è stato pianificato gli impianti come voi vedete il 26 e il 27 con una pianificazione diciamo un po' basica che dà il sistema che voi vedete con la superimposizione di alcuni dei denti poi la pianificazione con l'STL della gengiva e qui praticamente è tutto molto semplice vedete che l'impianto è stato posizionato flapless è stata posizionata addirittura in monconi e poi le cappe provvisorie senza levare nessun tipo di lembo con il protocollo dell'instant registration qui vedete praticamente la velocità con il quale la cosa è stata fatta per cui io ho inserito il NaviTray vedete che è già su e non faccio altro che cominciare tranquillo è già quindi il computer registra già la mascellare superiore del paziente e non faccio altro che controllare la cura 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 sì check nel monitor per poter verificare che tutto sia corretto e lo è e poi praticamente vedete in tempo reale comincio calibrando prima l'asse del manipolo poi calibro le frese e l'apposizionamento implantare avviene nel giro di pochi di pochi minuti in pochi veramente di pochi minuti quindi vi salto il passaggio mai l'avete l'avete visto basta seguire l'obiettivo che avviene con una curva di apprendimento mascellare inferiore lo stesso c'era un ponte il paziente desiderava appunto sostituire il ponte con degli impianti è stato fatto il protocollo anche qui dell'instant registration dalla parte controlaterale per cui il paziente ha fatto l'attack con questo navitray dopodiché ho pianificato qui avevo l'STL del ponte del paziente che mi serviva come guida protesica per pianificare i miei impianti e anche questi flapless sono stati inseriti con i monconi direttamente e le viti di guarigione in peak che sono queste qui e qui vedete anche qui praticamente io non ho fatto altro che installare il jaw tracker T ed ero già pronto per calibrare l'asse della fresa calibrare il manipolo e partire diciamo con la mia chirurgia verifico ovviamente sempre che la curacy check sia corretto e procedo direttamente con la chirurgia quindi è un protocollo di semplificazione dopo vediamo le indicazioni e anche quando si può fare e quando no giustamente però secondo me quando si hanno certe indicazioni è decisamente più rapido il passaggio è comunque molto preciso verificato con la curacy check che avete visto e poi il posizionamento implantare avviene in maniera tradizionale standard come avete visto prima qui ho il caso poi in cui è stata rilevate le impronte digitalmente attraverso gli scambodi che ce ne sono di tutte le aziende in questo caso ci sono gli scambodi per le biconometrie dopodiché il manufatto definitivo a casa mia non viene mai passivizzato nel modello ma viene passivizzato in bocca per cui si cementa il manufatto alle cappe che sono in bocca in questo modo per cui qui vedete il manufatto in zirconio che viene cementato alle cappe poi viene staccata diciamo la ricostruzione insieme alle cappe viene tolto il cemento pulito in maniera curata e rimesso in conometria o meglio in biconometria il manufatto scusate ecco queste sono le radiografie che manifestano appunto la precisione che ha tutto il sistema e anche l'inferiore che vedete qui realizzato finito da una parte e dall'altra e poi questo è il caso completato sopra e sotto a sinistra con anche tre mesi di distanza di visualizzazione con tre mesi insomma va tutto bene ma cominciamo ad andare un pochino più difficile quello era semplice facciamo un caso un pochino più complesso che è bello da vedere perché parte dal 2010 questo paziente vedete aveva era un paziente di colore aveva uno sventagliamento con problemi parodontali pazzeschi dei denti superiori e nel 2010 non ho estratto la parte dei denti come presumo qualcuno avrebbe magari fatto io invece non l'ho fatto ho semplicemente trattato la malattia parodontale in maniera più completa possibile sacrificando gli incisivi inferiori i quattro incisivi inferiori ma salvando i canini questo ovviamente perché era impossibile ho fatto della ortodonzia proprio diciamo non da ortodontista ma da semplicemente da una persona che cerca di risolvere un problema lo sventagliamento e ho sostituito attraverso un Maryland i quattro incisivi inferiori e qui vedete il caso diciamo finito dal punto di vista della bonifica parodontale e con i denti riposizionati e con il Maryland ho fatto la chirurgia parodontale per risanare la dentatura residua e ho posizionato un impianto nel 2011 vedete esagono esterno per cui parliamo dell'anteguerra per me però questo ho fatto con dei rialzi di seno per via transcrestale questo è il 15 e il 16 e questo è il 25 anche questo posizionato nel 2011 per farvi vedere il caso che ho completato nel 2011 con gli impianti il Maryland di più non poteva permettersi e un riposizionamento ortodontico del macellare e questa è la panoramica del 2011 e voi direte beh chissà quello è successo qua e qua anche a mia sorpresa vi faccio vedere perché il paziente ritorna e ritorna dopo più di 10 anni 12 anni a mia sorpresa gran parte dei denti si erano conservati non aveva poi in realtà peggiorato la situazione di gran parte degli altri denti però si è trasferito con la moglie in sud Italia però lui torna dal dottor Comuzzi solamente perché probabilmente mi ama ma vuole che vada avanti io con il resto del lavoro ovviamente aveva messo da parte un po' di soldini per cui mi ha detto adesso possiamo vedere il gruppo anteriore possiamo togliere il Maryland nel frattempo vedete c'era stato qualche cedimento più che altro perché il Maryland lavorando per 10 anni aveva fatto un po' di sventagliamento nei canini inferiori però per il resto si era conservato abbastanza bene il tutto allora qui ho applicato il protocollo dell'instant registration ho applicato ho fatto fare la TAC con il Navitray e il Naviplast qui che vedete dopodiché ho pianificato tre impianti ovviamente sacrificando a questo punto i canini perché non erano più utilizzabili ho fatto i miei STL vedete addirittura del Maryland e anche della nuova ricostruzione per cui vedete in blu o nell'altro colore arancione o giallo che sia la vecchia ricostruzione per vedere un po' quello che succedeva e dopodiché con il protocollo dell'instant registration ho semplicemente sono passato direttamente alla chirurgia vedete qui ho già posizionato il mio Navitray e sono pronto per la chirurgia calibrando l'asse del manipolo faccio l'accuracy check controllando la precisione ed è vedete zero quindi per me precisione massima posso procedere con il mio intervento il mio intervento che si è composto di posizionare tre impianti qui vedete le fasi proprio chirurgie qui il tecnico mi ha diciamo preparato una dimetta per la ribasatura per il carico immediato dei denti e quindi ho posizionato vedete il mio Navitray ecco qua vedete anche proprio un'immagine clinica di quello che viene fatto dopodiché vengono posizionati tre impianti post-estrattivi nei canini e un impianto nel gruppo anteriore vengono applicate le cappette per diciamo la ribasatura della resina che poi mi è servita per fare il carico immediato ho riposizionato la dima che il tecnico mi ha dato ho staccato a questo punto la resina con le cappe ovviamente con della vase lina all'interno altrimenti la frizione può essere anche eccessiva e qui ho fatto un attack post-operatoria anche per monitorare il mio operato che è precisissimo rispetta esattamente ecco vedete che sembrano gli impianti molto sotto cristalli in realtà lo sono ma è un mio modo di lavorare che conserva la presenza dell'osso e conserva anche proprio dell'osso stesso vedete il manufatto posizionato al della chirurgia essenzialmente lucidato con i punti ancora su e quindi il caso è stato ultimato in questo caso ma andiamo ancora più nel complimento Luca scusami ce la fai a chiudere in 5 minuti per dare poi la parola alla George si faccio vedere questo caso poi ho finito questo è un caso di un gruppo anteriore in cui praticamente la paziente nel 2024 viene con i due denti anteriori rotti e praticamente mi richiede cosa fare e quindi questi due denti rotti sembrano restaurabili in realtà come vedete clinicamente hanno una carie molto sotto gengiva ho richiesto delle foto vecchie per capire un pochino come erano questi denti ho applicato il protocollo dell'instant registration e ho fatto ancora di più in questo caso perché ho preparato il provvisorio con la Dima per il riposizionamento ho pianificato un posizionamento degli impianti e ho fatto un protocollo di socket chill con il protocollo DTR drilling through roots attraverso il Navident per cui ho abbassato il profilo dei denti ho fresato attraverso il dente seguendo il protocollo del posizionamento corretto attraverso il Navident e ho conservato le shield vestibolari dei denti qui vedete la radiografia qui gli impianti posizionati tutto in biconometria per cui vengono usate delle cappe provvisorie per la ribasatura della resina e qui vedete la dima riposizionata opportunamente staccata lucidata e riposizionata in bocca ecco qua e qui vedete la conservazione dei tessuti la paziente desiderava avere denti corti che aveva un tempo non desiderava avere denti lunghi e quindi il caso è ultimato ultimi due minuti anzi mezzo minuto per dirvi questo come take home message per quel che mi riguarda il caso dell'instant registration è utilizzabile specificamente perché è più comodo quando abbiamo la cbct machine nello studio quando abbiamo casi di edentulismo parziale unilaterale o bilaterale ma con dentatura anteriore presente e qui è il punto terzo perché possiamo applicare l'instant registration sugli incisivi se abbiamo dentulie bilaterali quindi abbiamo ancora la possibilità di utilizzarlo quando è difficile o richiede troppo tempo il posizionamento del Joe Tracker tradizionale quello C che avete visto o quello anche U che è anche questo perché c'è l'adesione la porcellana quindi il quinto punto di indicazione è quando si vuole velocizzare i processi di registrazione pur mantenendoli e forse il punto più importante ogni qualvolta ci sia un grosso scattering nell'attack perché il grosso scattering rende più difficile il protocollo trace in place proprio perché l'attack spara e non si visualizzano bene i denti ecco io credo che quando ci sia uno scattering molto elevato il protocollo dell'instant registration abbia la sua massima espressione e con questo ho finito scusatemi se sono stato un po' lungo grazie Luca ti chiedo di uscire dalla condivisione quindi devi cliccare di nuovo su share per uscire now I ask George to start sharing his video there's a square arrow in a square so click there ok and you can start sharing a video ok ok Luca yes perfetto Luca sei a posto adesso la parola a George can you see no no we cannot see yet so you need to click on the square where there is a black arrow inside click on the square in order to share your video ok share content presenter mode yeah then you click on the square that it shows up on your computer and by clicking on that square you allow the computer to share your video ok but it needs permission it says here yes you need to provide the permission you're right where shall I provide permission to what location services camera microphone accessibility now you need when you start the sharing when you click on the share you need to basically click this is the problem with microsoft it's permission permission what permission accessibility to what team viewer no we're not in team viewer no 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 okay it's on microsoft yeah i gave it okay okay now let's share again presenter mode okay yep and what but but you're not sharing yet we need again again George these are on the top bar on the rise i have seen it i have seen it and you need to click then it shows up a panel and you click on the panel on the panel the portion of the video you want to share yes but it asks for permission again this is crazy microsoft teams not be able to record i don't want to record no 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 you just simply share yes look up but the system asks for permission again i try to share include sound presenter mode window one screen ok ok go a little you see ok perfect so go in inglese ok tranquillo si vede il pointer si vede ok 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 so Luca has covered everything but i'm going to repeat some things ok i'm starting with impression registration or as Luca said it instant registration but i start by saying that the most important thing is that we don't need to do tracing so let me go a little bit further back first let's remember what how Navident started with by using a stent it was a requirement in the beginning to use a stent which was a thermoplastic material that we molded in the patient's mouth and made in like a custom tray and it had to be attached to a fiducial tray and then the patient had to wear it in the mouth and then we had to do the cone beam or the CT and after that by importing the DICOM files the system recognized what we called the fiducials the fiducials had this scheme as it shows here and the system registered in very immediate way the geometry of the patient of the mouth to the CBCT so impression registration now is a major improvement and let's remember and combine this way that the tracing has evolved by using Navibyte I don't know how many of you have used Navibyte it's a very 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 useful thing in cases of a lot of noise teeth missing as reference points not enough teeth in the mouth so we use Navibyte and we just touch some screws that are attached on it if we see all seven screws we touch all seven screws and just by touching we have an immediate registration and the system recognizes and matches the geometry of the patient to the CBCT to the mouth so let's talk a little bit about impression registration workflow when to use it it's it's not possible to perform trace registration due to when it's not possible to perform trace registration due to presence of too many PFMs and when we have a partially dentsulous arch when one implant or two adjacent implants are to be inserted and the prerequisite is that we have existing teeth that can hold Navibyte trace stably in place if we have some periodontally compromised teeth it's not possible to use Navibyte because it stays there in a very hard way so it might remove the teeth but otherwise it's something that is a great help coming and a great help so what is this system it consists of Navibyte as Luca said before it's a very small tray and the Joe trackers the special Joe trackers that we use in the mouth how do we start we start by using Naviplast Naviplast is the soft material that becomes soft by using a heater a special heater or you can use a heater a nice heater that you can adjust it up to 200 degrees celsius it takes only one minute to mold it and place it it's a very very nice material extremely nice material to mold it and place it in this tray in the small tray and then ask the patient to bite on it and after that you have to mold it around the teeth in order to make it steady then you can remove it in an easy way and then the patient goes to do the CBCT in your office or you can send the patient to CBCT radiology center so and by coming back we have to receive by receiving the DICOM files when you import them into the system the system immediately recognizes and sees this fiducial this scheme because the tray has four lines of metal I think it's aluminum but I don't know if it's titanium anyway it's metal and the system recognizes it immediately what you see here is a real time import you see how quickly the system sees the whole thing and here you can see we have a dialogue load mandible when you say yes it immediately registers the patient without the need of providing panoramic line to draw a panoramic in any way in this case I show you that you can draw a new panoramic line so the system allows you to do this and what is very important and I have included this video here is that you can design and you can see the 3D without the interference of the block of Navitray because the system has a very nice way to hide it so you have to click on a new button that appears and that lets you see where Navitray is in order for you to adjust and see in this case for instance the implants to be placed are very near the Navitray so you have to check if it's okay and you have to in order not to interfere with your vision the system can remove in the 3D the whole Navitray so the 3D is very clear to work on it and so on we have another case here okay let's go I cannot change it yes I did it so here we have another case in which the system recognizes again Navitray and by just clicking on load mandible it takes just a few seconds to register and as I said before there is no necessity to draw a line a panoramic line so here we can see the whole protocol of designing and going on as we I just go forward and I show you again the same thing there is this button here that by clicking on it it makes Navitray to appear in order to let you see the whole 3D in a clear way this is very important so I go forward in this case to show you that we can as usually match an STL file and then we can draw the nerve and then we can design our implants and so on and so on we're going to go forward in a later one so let's recapitulate a little bit what is impression registration it uses a special material a thermoplastic material which looks like Navistent it's called Naviplast it's used so nicely that it does not penetrate too deep into the cracks between teeth but it keeps its place in a very nice way and actually we use this is something that you have to understand we use two trays one tray is the Navi tray that we take the CBCT and the other tray is the jaw tracker which allows the guidance and allows the registration the automatic registration so as soon as the system sees the jaw tracker it instantly registers the patient it is the same as the old Navi Stent but very 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 helpful because of its size and because of the versatility has so these are the three jaw trackers that we use and by applying Navi Plast in the jaw tracker we put it in the patient's mouth but after the registration the automatic registration the system is so versatile that we if the jaw tracker interferes in the way that we work in our hand or so on we can change it by using in the upper jaw for instance the head tracker in the lower jaw the jaw tracker the old one in providing that we have placed the second one while we keep in the mouth the first one then we can remove the first one in order to free the area in a case that we have a problem so some pictures for you to understand Navitray with NaviPlus together and here is NaviPlus only on the left which has been removed from this tray and here is NaviPlus from the other side where you can see these grooves go inside this jaw tracker with a click and the whole thing goes in the patient's mouth and is very steady and as soon as the system sees this it automatically registers the patient so when we start we start not by tracing but we start by calibrating our drill axis as Luca showed us before so we calibrate the drill axis and then we move on to calibrate our drill so here you can see the calibration of the drill and here you can see in a moment after the calibration we go directly to accuracy check here you can see on the left it's gone here is the accuracy check if we are not if we are not okay with the accuracy check which does not happen as I say it's very rare to happen the system gives us and reminds us in a while you're going to see this this is a normal procedure by the way if you see here a gap there is no gap it's only decalcified area due to the recent extraction so here you see the system says we have an active registration and if required to improve accuracy near target site calibrate tracer and trace a nearby structure working avoiding PFM crowns so it gives you the versatility to use the tracer to do tracing so that's all that I wanted to say about the in impression registration now I want to share with you some of my experience I want to share with you three ways that Navident can be used with great efficiency and the Navident has helped me a lot in these ways first I'm going to talk to you about partial extraction treatment and socket shield you know every one of you know what partial extraction treatment is it's three entities socket shield pontic shield and root submergence technique and so the concept is to prevent the periodontal ligament associated with the portion of the root and vascular supply so in socket shield a part of root is intentionally retrained by using dynamic navigation you can be guided both through the procedures of cutting the root fragment and immediate implant placement so we have this drawing here you all know what it is this is the part of the root and the way that it has to be cut here we have to fill the gap with a graft and the implant must not touch the part of the root this is the prerequisite if we make the implant to touch the part of the root so we have a failure so here we are in a case that the lady lost all these teeth number 13 number 15 number 17 are going out and I'm not going to details but I'm going to show you a nice video in which we have this treatment we're going to extract number 15 number 17 and do partial extraction treatment on number 13 you see how compromised the teeth are and you can see here the area that we want to maintain this is the area of number 13 so here we start by planning number 13 the implant and after that I plan the partial extraction treatment in my case I do it by doing two different bookmarks one bookmark for the partial extraction one bookmark for the implant you can do it by combining them in one bookmark the one implant besides the other it only shows in red because the navidant sees that they touch almost each other and here is the plan of the other implants so we proceed by extracting the two teeth and now we drill number 17 we go in here we place number 17 I go a little bit forward here we drill by a wave palatal insertion number 14 which is clear I remind you we have extracted number 15 now we place number 14 and now we go to number 13 the canine you can see in the canine how close to the baccal bone the root is so we go in and I'm going to show you a second case which it shows more we go in a mesial distal movement so we go oops no I'm not going to let you do this okay here we are yeah we go in a mesiodistal 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 way all the way down it takes some time but it's worth to do it in this way the precision is very high if you keep on your plan and here you can see that in this case I did an apisectomy too you can see how nice it shows and guides you in this place of course it's out of target but we know where we are and here is the drilling of the implant we have already removed the palatal part of the tooth and here we drill for the implant and in a few moments we're going to place the implant and the implant is in place and six months after immediate loading this is the final picture you can see here a part of the root that has been remained and you can see how nicely the bone volume has been maintained as far as it concerns the canine here it shows better the bone the volume maintenance on the right side and here we were lucky but because seven months post-op we had to take a new CBCT of the lady for another implant so we can see very clearly how this thing has been incorporated in the new bone this is the part of the root that was kept seven months post-op so this is another case and gentleman 74 years old lost this canine this is the worst case than the before one because you're going to see why it needs 100% socket shield or you can lose the whole bone the oral hygiene of the patient is not the best one so here's the plan you can you can see how close the canine is to almost non-existing buccal bone this is the plan to cut the root and this is the plan for the implant now in this case you see they co-exist I mean the two plants so here you can see in a better way the sideways movement if you see it in this tangential cut here you see I go sideways all the way down of course the video has been running in a very fast way it takes some time to do this with a special burst and the contra ankle that is not at 90 degrees so the system has to know the drill axis is about 45 degrees or I don't know it's 70 degrees something like this so here we are preparing the socket shield we go all the way down checking and checking and checking again we have to remove of course the palatal part in a very very careful way and here is the drilling for the implant and again we are going to see the implant in place let me go a little bit forward yep and implant in place and the implant in place it's five months post op we didn't use any immediate loading in this case so five months post op we place a zirconia crown and one year post op we see the maintenance of the volume and again this lady this gentleman had another problem and we had to take another CBCT and here you can see in very very nice detail how the bone has been maintained outside the part of the root and also has covered this area and made a new bone so in this case you can use it with very high precision I'm going to show you one case of internal sinus lift I do it many many times internal sinus lift using Versa bears and Navidant of course first I start by planning the implants in the initial plan as I call it where the implants are in their real length so as you can see the plan has to do with prosthetically driven case okay the implants are in the initial length and then I do a mock-up or change the length of the implants up to the level of the sinus floor this is to make me to understand and know exactly where I am when I reach the sinus floor so I start in reverse drilling at 1300 RPMs by using these versa bears in order to condense and go slowly slowly by changing the diameter up to the top the top is something that is a fake implant okay you can do it other way you can make two bookmarks and you can do this and then you can change the length of the implant without changing the direction of course but you don't need it since you see by your own eyes you don't need it finally to change the plan you know that this is a fake implant so we go in reverse after number three we go in reverse at 150 RPMs and we send in the graft and this is the graft that we send it we always fill the membrane we always fill the membrane with a special probe that is not so like a needle it's wide a little bit and you feel it you feel it and then you know that the membrane is intact and it's very important to check it always and always check your graft so you always since I started using Navident in this way I always have a success a very nice you know this dome shape that goes over and gives you the confidence that you have not penetrated through by dispersing it in the signer and this is the day of placement immediate placement you see quite a different quite large augmentation here and after exactly one year you can see how much bone has been formed here exactly one year post and a little bit about tergoid implants you all know about tergoid implants I thank Luigi Stefanelli because he's a grand maestro for teaching me this and you know tergoid implants can take part of three different bones the palatal bone the maxillary bone and the sphenoid the part of the sphenoid the pterygoid fossa so some schemes here and you can see this is a very short video how nicely you can guide yourself and see and be very safe if I used it now I placed this this is one of my first ones I would put it a bit up to the floor of the sinus not entering the floor but a little bit up but it's a couple no three three or four years four years now that it's in place and it's very very well working as a matter of fact I saw the gentleman today because of another problem he had and he's doing fine so you can see how nicely in all the windows you can check yourself and be very sure that it works and here is the case when we did an immediate loading in the front implants here we have placed an angle tabatment about 30 degrees and here is the final case after six months and this is going on in a very nice way and here is another case the final one where I want you to see how nicely we can calculate the angles not only the angles between the implants but also the angles between the abutments this is the mouth of a dentist who has lost all his teeth the upper right teeth this tooth has gone but the CBCT was taken before the tooth was gone so the plan here is to place a pterygoid and to place another implant in the area of number 16 by a baccal palatal direction I'm going to show you later on in this short video why and here it was decided to use a 17 degrees abutment and here a 30 degrees abutment so the difference between them is 3.7 degrees you can calculate this by using Navidant it has a small problem Navidant and I say it now I've said them before but I think they don't know it exactly if you put in the whole mouth abutments it makes a mistake and counts the right one with the finite left so you have to remove some abutments to make the right calculation anyway this is a very precise way to calculate and here you can see this video by inserting this here this area that shows that has no bone it at that time of the insertion was full of bone so the plan was to take advantage of this area where we have more bone so by placing this implant is going to project like it is in the sinus but it is not in the sinus so we correct this inclination by placing it 17 degrees abutment and after that you can see in a very nice way the insertion of the pterygoid and here you can see the major palatine area of the artery which is something very important to be very careful and by using this system you can always go in the right place so the implant is in place and here is after the placement you can see how parallel the two abutments are here you can see that this implant shows to be in the sign and please don't wonder about this because he is a dentist as he is afraid to remove it yet and here is six months post-op the finished case so with this I thank you very much I hope I didn't get you too tired I'm going to stop sharing thank you thank you George and I'll myself I will stop recording as well but I will be I would I I